Sono risultati tutti negativi i tamponi per Covid-19 eseguiti sul personale e sugli ospiti di Villafranca, una struttura di eccellenza del territorio cilentano che sin dal 26 febbraio scorso ha chiuso l'accesso ai parenti ed esterni, occupandosi con grande professionalità degli ospiti. Villafranca, con 12 posti letto, funziona per l'intero arco dell'anno. La sua finalità è offrire una soluzione abitativa per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto, prevedendo situazioni di emarginazione e disagio sociale. È destinata prioritariamente a persone che conservano un sufficiente grado di autonomia e per le quali sia impraticabile o improponibile l'ambiente familiare. In casi particolari non è esclusa l'accoglienza di persone anziane non autosufficienti, necessitanti di assistenza sociosanitaria continua se assistiti da un badante. La permanenza presso la struttura può essere temporanea o definitiva. I tamponi diagnostici per coronavirus sono stati predisposti dal direttore del distretto sanitario 70, Adamo Maiese, dalla responsabile della cronicità Cinzia Granito e dall'ufficio di prevenzione del distretto di Vallo della Lucania e Agropoli.